Siamo con Licio Di Biase che ci parla del primo degli appuntamenti che ci saranno nei centri, nei piccoli e grandi centri della provincia di Pescara. Al Via Oggi alle ore 17 a San Valentino accendiamo il Medioevo Festival errante tra eremi, borghi, torri e campanili. Perché questa scelta? Perché abbiamo constatato come per esempio la provincia di Pescara ci sia circa il 95% degli elementi del patrimonio culturale che non sono fruibili per varie ragioni, alcune volte col piede al terremoto, altre volte proprio per proprietari che non sono in grado di garantire l'apertura, per tantissimi motivi. Quindi con questi eventi vogliamo sollecitare le istituzioni, soprattutto la regione, ad individuare un modello di gestione di questi beni. Abbiamo riscontrato una grande attenzione da parte dei comuni, il comune di San Valentino con cui oggi iniziamo il primo fine settimana, il comune di Penne, il comune di Cugno, il comune di Santo Fermi a Maiera per Rocca Caramanico. Saranno quattro fine settimana con la partecipazione anche di personaggi importanti, da Franco Ferrarotti a Mario Tozzi, ci sarà Federico Moccia, quindi momenti molto importanti. Non parleremo del Medioevo ma facciamo festival nei luoghi medievali per farli conoscere e per farli valorizzare. Grazie. Grazie. Grazie.